World Business Forum 2021, con noi Anna Mazzeo, Business Development Director Europe di Uobi. Buongiorno Anna, cosa ci puoi dire di questa edizione 2021 del World Business Forum di Milano che è appena terminata? Siamo molto contenti, devo dire che fino a giugno eravamo ancora un po' in attesa di sapere se questo evento poteva essere o no fatto di persona. Per fortuna siamo qui, è un'emozione enorme trovarci nuovamente con i clienti. Si sente questa allegria, si sente la felicità di essere insieme pur con mascherine, con tutti i protocolli Covid, siamo insieme e questa cosa è quella che conta. Devo dire che l'evento sta andando benissimo, abbiamo approccio 1.200 persone in sala. Niente, siamo felicissimi. Abbiamo appena parlato delle difficoltà del Covid ma state già guardando oltre, state già guardando al 2022, l'edizione del prossimo anno. Ci puoi anticipare qualcosa? Anticipo qualcosa, infatti è stato lanciato durante questa edizione, quella del 2022, come sempre ci portiamo avanti. Parleremo d'economia, parleremo di performance, di diversity and inclusion, temi molto importante per le aziende, temi molto importanti per i manager che devono portare avanti le proprie aziende con decisioni importanti. Ci aspettiamo un grandissimo evento, pensiamo che il 2022 sia finalmente l'anno della ripresa e ci vediamo qui sicuramente l'anno prossimo. Il nostro tempo a disposizione sta terminando e buongiorno e al 2022. Grazie.